Siamo a Torricella, in via Pietro Franzoso. Siamo stati chiamati da un folto, nutrito gruppo di lavoratori della ditta Iris. La ditta Iris è una ditta dell'appalto che lavora con Acciaierie d'Italia, ex ILVA. I lavoratori dichiarano che non ricevono lo stipendio da quattro mesi. È certamente una situazione pesante. Ci sono due realtà, due dichiarazioni che si contrappongono. I lavoratori dichiarano che non percepiscono stipendio e però sostengono che Iris sia stata pagata, abbia ricevuto ovviamente i soldi, sia stata pagata da parte del committente di Acciaierie d'Italia. La Iris invece dichiara, sempre stando a quello che loro dicono, di non poter pagare i lavoratori in quanto non sarebbe stata a sua volta pagata da Acciaierie d'Italia. Insomma c'è questa contrapposizione. Io non voglio parteggiare per nessuno. Certamente io sono con i lavoratori, sono un lavoratore che difende i lavoratori e questo mi sembra giusto. Ma sulla vicenda voglio essere neutrale ed imparziale, voglio avere chiarezza ed è giusto ascoltare una campana e l'altra campana. Ora sono qui appunto con i lavoratori e sentirò la loro campana. Parimenti, tra un po' andrò proprio a bussare a casa della residenza, almeno dell'amministratrice delegata Giannuzzi Vittoria Cosima, per vedere se c'è e se appunto può darci spiegazioni. Se così non sarà, domani contatterò l'azienda e cercherò di far sì che ci sia un'intervista, che ci sia una replica. Meglio ancora un confronto tra i lavoratori, il rappresentante o i rappresentanti sindacali dei lavoratori e la Iris. Ripeto, nessuna offesa, nessun atto predeterminato contro l'azienda Iris, ma visto che devo fare il mio dovere di giornalista, da giornalista io riscontro questa realtà dei lavoratori che dicono che non siamo stati pagati. E questo è vero che, almeno stando a quello che dicono, loro non ricevono stipendio. Poi, se così non è, vediamo cosa ci dirà l'azienda. E puoi capire anche dall'azienda stessa se effettivamente è stata o non è stata pagata dal committente Acciaierie d'Italia. Ovviamente, lo dico per chiarezza, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io da giornalista sto dando voce a dei lavoratori e a un rappresentante sindacale degli stessi. Parimenti, li rivolgerò all'azienda. E allora, massima par condicio è nessuna affermazione denigratoria o diffamatoria. Allora, iniziamo dal rappresentante sindacale, che è appunto Peppe Quaranta, del Comitato Lavoro. Allora, Quaranta, sentiamo la sua versione. Allora, la versione che noi abbiamo dato non è una cosa inventata, è sottoscritta sia dai lavoratori, ma soprattutto da una lettera che completa il nostro, come possiamo dire, la nostra idea. A questa lettera che loro hanno ricevuto, l'ha ricevuto il Ministro del Lavoro, l'Interno, il Prefetto, il Questore, il Sindaco di Torricella, il Sindaco di Taranto, il Presidente della provincia. I vari soggetti istituzionali. I soggetti, la Mittal, soprattutto la Mittal, dove noi diciamo esattamente chiediamo l'intervento per risolvere gli interessi di 100 famiglie, perché sono abbandonate a loro stessi, sia perché non li pagano, sia perché non li fanno lavorare. Quindi, di fronte a questa che noi abbiamo scritto, data 4 gennaio, l'azienda risponde all'istante, il 5, risponde esattamente, non è vero niente, come fate a dire che l'ha abbandonato? Io ho fatto sempre l'interesse di questi lavoratori, di fatto conclude, e qui non dice se è stato pagato o no, noi dal Vox Populi sappiamo che prende i soldi e paga i fornitori, prende i soldi dalla Mittal e paga i fornitori. Questo lo sta dicendo lì? Vox Populi, sì, sì. Dobbiamo essere documentati. Vabbè, lei... La voce dei lavoratori. Ora, al di là di quello che si dice, lei sta sostenendo che Iris sia stata pagata da cagli ereditari? Non lo so. La gravissima... Ascolteremo anche l'azienda per avere una risposta. La gravissima comportamento è che nel momento che ha preso una sola tranche non ha pagato i lavoratori, che vengono primi di qualsiasi fornitore. Questo è l'errore che ha fatto. E dice lei, l'azienda... Mi pare di aver letto in buona sostanza che queste affermazioni sarebbero denigratorie, invita a smentire queste affermazioni, altrimenti si procederà comunque attraverso l'autorità giudiziaria. Difatti, quindi, il sindacato normale vede in questa lettera una minaccia. Lei ravvisa un tono intimidatorio. Io l'ho ravvisa perché poveretti a loro hanno di fronte un signore organismo che non guarda le fesserie, guarda le cose seri. Quindi abbiamo ascoltato la voce sindacale, ora ascolteremo i lavoratori. Ovviamente queste sono le affermazioni dei lavoratori e appunto del comitato lavoro. Noi aspettiamo una risposta da parte appunto dell'azienda perché questa è la loro campana. Voglio sentire anche la loro, benissimo. Intanto però voglio sentire la viva voce appunto dei lavoratori. E allora, un lavoratore, da quanti mesi lei non percepisce stipendio? Allora io non percepisco stipendio da quattro mesi. Quattro mesi senza stipendio? Senza stipendio. Da avanzo settembre, ottobre, novembre, tredicesima. E dicembre non sappiamo perché non si sa se questa casa di integrazione viene approvata o non viene approvata. Comunque, diciamo anche dicembre, sono cinque. Lei è monoreddito? Monoreddito, per lo più separato dovrei purtroppo corrispondere agli alimenti dei miei figli che non do da quattro mesi. Perché non ha niente da dare. Certo, purtroppo a me ha spezzato le gambe completamente a livello sia morale specialmente che nei confronti. Anzi, malissimo. Ascoltiamo un altro lavoratore. Allora, il problema è che questo è qua lo stesso, come ha detto Franco, alcuni venivano trattati in un modo, alcuni sono stati trattati in un altro. Quindi lei ravviso una discriminazione? Io credo di sì, perché io in pratica ho lavorato fino alla metà di ottobre. Poi questo direttore mi disse di andare in ferie. Allora, giustamente io disse ferie che ferie non ce l'ho. No, no, l'azienda mi ha detto che sta in ferie. Dico, vedi che lo stai dicendo tu, eh? Poi domani ti porto in tribunale. Ti porto. No, perché tu mi stai dicendo, c'erano persone, che sta in ferie. Allora, io mi trovo in ferie dalla metà di ottobre, che ho il cartellino a casa con la copia, no? Da ottobre poi non mi hanno più chiamato a lavoro. Non so se sono morto o se sono vivo. Tredicesima, niente come diceva l'amico Franco, il collega. E poi gennaio, che sta passando, idem con patate.